ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video come vedete sono in dolcissima compagnia perché oggi è un giorno molto speciale la nostra freya che tra parentesi non vuole stare tanto a braccio quindi cercheremo di far veloce compie un anno e vogliamo festeggiare insieme a voi abbiamo preparato questa piccola sorpresina che proveremo a inquadrare in questo momento se volete vi posso fare un video con la ricetta fatemi sapere se vi interessa mi va guarda che c'è guarda ti piace? oh la cannellina però bisogna cantare gli auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a freya tanti auguri a te auguri tanti auguri a te che c'è bacino si bene vediamo se gli piace questa torta poi mi sembra proprio di si perché si è già buttata è buona evviva aveva un po' pure che non le piacesse anche perché la signorina è anche di bocca buona vero? direi che la festa è riuscita mi raccomando l'ho già detto ma fatemi sapere se vi interessa il procedimento perché ho già pronte le foto insomma per fare un video vi ringrazio per averci guardato per aver festeggiato con noi e ci vediamo la prossima volta ciao ciao